Io ho dato la disponibilità a continuare un lavoro, un lavoro che è durato in questi anni dove abbiamo fatto di tutto e di più, le foglie a CE, ha una sua centralità, quindi la disponibilità è a fare di più e meglio di quanto abbiamo fatto in questi anni. Non è facile fare ancora di più e meglio perché abbiamo messo tutta l'esperienza che io ho acquisito in questi anni, nei diversi ruoli, ma anche un grande lavoro di squadra. Abbiamo realizzato tante cose, cito quelle più importanti, la depurazione dell'asta fluviale, che è un'altra grande operazione ecologica ambientale, oppure come la firma di 11 milioni di euro col Presidente della Giunta regionale e gli Assessori Brandoni Baldelli della settimana scorsa, che è il più grande evento ambientale e ecologico di forte riduzione dell'inquinamento atmosferico, con un'incentivazione all'uso del mezzo pubblico, dell'attuale circolare destra e sinistra, e di questo bus rapido, diciamo, Talacchio di Vallefoglia, Est e Pesaro. Poi il nuovo municipio, tutti quelli che vengono lì oggi hanno tutte le risposte e hanno di fronte la Casa della Salute, che mi sto battendo come un leone per farla potenziare. La ciliegina nella torta, due teatri. Il teatro Giovanni Santi riprenderà la stagione con una decina di iniziative, è un teatro di 340 posti, Sant'Angelo di 150 posti, quindi Talacchio Ovest, e lì nascerà una struttura pari al Blu Arena, una farmacia, un parco per, diciamo, un autoparco con i servizi, il lavaggio, ufficine meccaniche, eccetera. Tutte idee forti anche per il futuro, che naturalmente vedremo nella proposta programmatica dei democratici civici per Vallefoglia. Ecco, come vedete, insomma, ci sono idee, ci sono fatti e non chiacchiere di questi dieci anni, e quindi speriamo che la gente possa voler continuare questa attività che ridà a Vallefoglia una centralità che non ho mai avuto, parliamoci chiaro. Vallefoglia c'è oggi, c'è su tutte le questioni, ci sono idee, proposte, progetti e soprattutto un rapporto con i cittadini. Il mio telefono, 338-8460-162, ce l'hanno tutti, perché quelli che hanno bisogno del sindaco, lei si deve andare a pregare, aspettare dieci giorni per un appuntamento, chiamano direttamente il sindaco, il sindaco risponde. Poi il sindaco fa un grande lavoro di squadra, abbiamo deciso sempre in giunta, tutti insieme, quasi sempre all'unanimità, e il Consiglio Comunale ha avuto un ruolo centrale. Penso all'avanzo e chiudo che abbiamo approvato, 2023, 3 milioni d'avanzo, 2022, 3 milioni d'avanzo, 2023, 1 milione d'avanzo. E poi, essendo, come dicono tutti io, un uomo fortunato, abbiamo avuto una continuità dei fondi per la fusione, cioè 1 milione e 600 mila euro all'anno per i prossimi 5 anni. Quindi Vallefoglia ha una situazione finanziaria molto solida, quindi abbiamo fatto di tutto e di più e faremo ancora di più e meglio se i cittadini lo vorranno. Vallefoglia